Nella partita senza appello Caserta riesce a raggiungere la seconda vittoria di questa stagione agonistica contro Salerno in una partita senza appello, come avevamo detto, e finalmente interrompe la striscia di 16 sconfitte consecutivi. Per me era diventata ormai un'ossessione iniziare le analisi delle partite della Juve Caserta aggiornando il progressivo delle sconfitte consecutivi e finalmente posso dire che Caserta vince dopo un intero girone bissando la vittoria del girone di andata contro Salerno. Una partita da morte, in pratica uno spareggio salvestro, lo possiamo considerare sotto tutti i punti di vista. Per Caserta era importantissimo portarla a casa e questa era una gara che si giocava più che sulla tecnica, sulla possibilità di gestirla da un punto di vista emotivo, perché per Caserta era l'ultima spiaggia. Da questo punto di vista i ragazzi l'hanno approcciata nel migliore dei modi, dimostrando anche una condizione fisica rispetto a Salerno che probabilmente aveva acciacco in più, però durante i 40 minuti di gioco si sono viste due squadre che avevano un livello di energia completamente diverso, forse anche la possibilità di allenarsi due volte, fare la doppia seduta durante la settimana ha portato qualche beneficio dopo questo punto di vista, però sicuramente Caserta ha interpretato a un punto di vista emotivo e meglio la gara, è stata subito in partita, ha tolto sicurezza alla squadra di Salerno che probabilmente da questo punto di vista ha pagato Dazio, dimostrando via via durante la partita di perdere contatto con la gara, si è nervosita, giocatori completamente fuori partita, mentre invece Caserta ha trovato sicuramente in ogni fase della gara un protagonista, è stato per esempio Masturano nel primo quarto, poi nel secondo quarto è salito in cartita il miglior Azic della stagione, un giocatore completamente trasformato rispetto al giocatore visto durante questo campionato, forse per la prima volta ha mostrato a tutti il suo vero valore che ci veniva raccontato dagli addetti a lavori quando chiedevamo di questo giocatore, ha sciorinato una percentuale a tiro da tre punti, ma soprattutto è stato presente nei momenti importanti della gara. Poi c'è stato l'apporto di Ali Bekovic, ma sicuramente il break del secondo quarto, di 15 a 1, è stato costruito con il support in cast, cioè con i giocatori che sono alzati dalla panchina. Anche i coach dell'imperio ha preparato a modo di vista tattico, invertendo un po' le rotazioni che eravamo abituati a vedere, e questo ha portato dei risultati. Ovviamente questo deve essere un turning point della stagione, un punto da cui ripartire iniziando ovviamente dalla partita contro Cassino nel turno infrasettimanale. Caserta accorce così le distanze da Salerno, mette un po' di pressione su una squadra che è apparsa in notevile difficoltà e Caserta ovviamente deve sfruttare qualsiasi opportunità da questo momento in poi per dare concretezza ad una rimonta che a tutti sembra possibile. Dallo Stato di Pascarella è tutto, appuntamento alle prossime gare del Regno di Caserta.